Buonasera a tutti che non ascolto tutti i metri e voi li trovate in questo nuovissimo video Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un bel like e attivare la campanellina per non perdervi nessun nuovissimo aggiornamento In questo video andremo ad analizzare le previsioni dei metri per quanto riguarda la giornata di Halloween e comunque anche poi i giorni a venire Seguendo comunque la settimana per quanto riguarda il sud, che se non l'avete ancora visto vi invito ad andare a vedere il video per quanto riguarda le medicane che è uscito qualche minuto fa, circa 20 minuti fa In questo video andremo a parlare per quanto riguarda Halloween Vediamo subito dalla grafica che comunque questa settimana ci sarà una riega di emozione termica nei prossimi giorni per quanto riguarda il centro e il nord Comunque l'irruzione termica non molto importante A partire dalla giornata del 29 è un'irruzione di aria atlantica con pioggia e investirà il nostro paese A partire dal 31 è un minimo depressionario, si avvicinerà e qualche giorno dopo verrà accompagnato dall'area più fredda che investirà il nostro paese A partire poi dal 3 di novembre l'area più fredda si sposterà direttamente sulla nostra età e sul nostro bacino mediterraneo Dove entrerà in primis per quanto riguarda la Valle del Rodore investendo tutta la parte per quanto riguarda quella Ligure e Tirrenica Possiamo vedere che temperature scenderanno da una temperatura di 1500 metri di 8 gradi anche a 0 gradi Soprattutto per quanto riguarda le regioni tra Piemonte, Liguria e Toscana Quest'area più fredda poi si andrà a spostare in tutta Italia portando la termica di 0 gradi durante il 5 di novembre su tutto la Val Padana e anche addirittura forse qualche infiltrazione sulla Liguria e forse anche sulla Toscana Per quanto riguarda invece la temperatura sulle Alpi si potrebbe anche attaccare una meno 20 intorno ai 1000-2000 metri d'altezza scusate meno 20, una meno 8 ho sbagliato una meno 8 come temperatura che per il periodo è abbastanza fresca ma comunque niente di straordinario con sé come ho detto ci sarebbero precipitazioni una diminuzione di quota della neve abbastanza importante soprattutto per quanto riguarda le Alpi ma anche l'Apennino Questo è tutto ancora su tutto il vostro prezzo d'aria e vi ricordo ancora di iscrivervi al canale lasciate un bel like e attivate la campanellina per non perdervi nessun nuovissimo aggiornamento meteo